La bellezza della comunicazione, la bellezza della comunicazione e questo amico che ho appena lasciato, abbiamo preso un drink insieme ha detto una frase stupenda dice vedi, io ho detto secondo me secondo me le passioni sono il motore sono un circolo virtuoso perché fanno spendere soldi affinano leggere le menti, fanno conoscere meglio le cose fanno tessere relazioni sociali e lui mi ha detto hai ragione il secolo perché io e te se non fosse che ci siamo ritrovati in un rombo ci siamo ritrovati in un rombo mi ha detto secondo te sto male è di una bellezza, capacità di sintesi e pragmatismo ci siamo ritrovati in un Debraia, valancia in un rombo ma secondo te sto male ci siamo ritrovati in un rombo viva la vita, tutta la vita, bella per te sei che andate, per te, io sto male in videoxin